Lo avete sentito nell'intervista di sicurezza. Ricorderete che era il 16 dicembre l'incontro tra il ministro dell'interno Piantedosi e i sindaci di Milano, Roma e Napoli per parlare proprio di sicurezza. Ebbene, uno degli effetti si è visto in queste ore, lo vediamo dalle immagini, un'operazione straordinaria con l'impiego di 120 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza ieri sera alla stazione Termini e nelle aree di Mitrofe era presente anche la polizia locale. Questi sono i controlli che sono stati predisposti proprio dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dei giorni scorsi, controlli che proseguiranno anche in queste giornate, un'operazione che è avvenuta nell'ambito dei servizi straordinari di prevenzione e contrasto alla criminalità proprio a Roma, Milano e a Napoli, definiti nella riunione che vi dicevo del 16 dicembre scorso. I servizi interessano le principali stazioni delle città per poi essere estesi in altre zone a rischio illegalità.